I tassisti agrigentini assicureranno il servizio notturno da questa sera e anche questo è un modo di fare turismo? Sì, tra l'altro con l'apertura del serale della Valle dei Templi noi facciamo questo servizio tipo tacchi e sinavetta che li portiamo direttamente al Tempio di Giunone in modo che la gente ha la possibilità di visitare la valle facendola scendere e alla fine del percorso si ritrova qui al parcheggio di Porta Quinta dove si prende la macchina e va via. Gli orari? Gli orari sono dalla mattina alle 8.30 fino alle 21.30 la sera con la chiusura dell'ultimo biglietto e le biglietterie ma per noi il lavoro continua fino a quando chiude la valle in modo di dare la possibilità ai turisti di trovare il servizio sempre. Come sta andando questa stagione estiva? La stagione diciamo che sta andando non benissimo però non ci possiamo lamentare. Ecco adesso aspettiamo appunto il fatto del serale in modo che la gente viene di più con il fresco e quindi tutto qui. C'è collaborazione tra voi tassisti, il parco archeologico e il comune di Agrigento? Sì sì infatti noi il comune soprattutto il sindaco ci ha autorizzato a farci stare qua dentro come lente parco devo dire e c'è una grandissima collaborazione per questo nuovo servizio. Una curiosità ma i turisti sono meno o in più rispetto all'anno scorso? Rispetto all'anno scorso secondo me è meno, qualcosina è meno. Però ancora non si può dire perché diciamo la stagione vera e proprio parte in questo periodo. Speriamo bene in fine luglio e tutto agosto.